Nella nostra camera da letto, VLOGMAX, VLOGMAX, buongiorno Siamo appena svegli nella nostra casetta con la connessione, yeah Da notare che ho sciopigiava di Max perché io non l'ho portato assolutamente a casa VLOGMAX, VLOGMAX, VLOGMAX Comunque è troppo bella la nostra camera da letto È sciapicicca Sì, adesso dobbiamo fare il letto, vero? Dovete andare a mano a fare il letto? No, io non riesci a andare a comprare la roba Comunque è quasi pronta la camera da letto per farvi l'homo tour Però voglio che sia tutto perfetto perché sapete ci sono alcune persone cattive che poi iniziano a dire Quella è come brutta Chi se ne fotte? E allora io lo voglio fare quando è tutta perfetta Chi se ne fotte? Questo devi pensare Comunque che bella la nostra camera da letto Faccio vedere qualcosina Tu che fai? Ci vediamo alla fine di Natale Almeno dammi una mano a fare il letto Che bella vista dalla nostra camera da letto Dai, ah! E lo dobbiamo fare No, ma io lo voglio fare Faccio il letto in giro Sì, ma perché non lo vuoi fare che ti scocci? Dai! Stronzo Dobbiamo comprare un bel piumone normale No, perché stasera Guarda com'è carino e buonissimo Esco i piedi fuori Esco i piedi fuori A voi A voi, ah! Ti va a comprare Vi dà la tuffa Oggi tra l'altro riesco proprio a carburare Perché praticamente ieri ho mangiato tantissimo E' venuto e ha comprato un sacco di porchetta Quel maledetto cattivo Ogni volta che va sul mercato si ritorna con le schifezze Vabbè, e litighiamo E alla fine E niente, sta porchetta Ho detto, vabbè, fammi assaggiare Comunque mi ha fatto mangiare un chilo di porchetta E quindi ho detto La prossima volta che tornerai a casa Con qualche schifezza non ti farò entrare in casa Quindi, vabbè, non la mangiamo veramente da tantissimo, tantissimo tempo Oggi mi sento proprio pesante Non riesco a digerire Poi l'ho mangiato veramente tanto Dopo un chilo di pizza Comunque, vabbè, ci sta Viva le feste Viva le feste di Natale Viva il cibo Comunque, mi sono fatta infatti un tè Un tè verde con limone Che mi aiuta a depurarmi A un po' smaltire E vi volevo di sta cosa Che ho letto un po' i commenti del video precedente Quello sulla connessione E vi volevo spiegare sta cosa Perché poi prese dall'entusiasmo Mi rendo conto che Alcune persone non riescono a capire giustamente Questa è l'importanza per me di questa cosa Perché per me la DSL è una cosa che io in vita mia non ho mai avuto Quindi lo so che può sembrare strano Dici, ah, è una youtuber Come fai video per youtube e non hai la DSL È vero, ragazzi Io non ho mai avuto la DSL Eppure carico video quasi ogni giorno Da anni Che dal 2009 sto su youtube È strano crederci Però è vero, io non ho mai avuto la DSL Perché dove abitavo Appunto la mia casa Non c'è la DSL Quindi mi sono dovuta sempre arrangiare Con le pennette O delle reti particolari Aeree Roba che comunque era sempre molto molto lento Infatti ho ottenuto a volte il computer acceso Tipo le notti intere No, una né, più di una Infatti ho rotto tanti computer Insomma non è Non è una cosa, non è stato facile per me Insomma io ho combattuto tantissimo Con la connessione Adesso quindi avere una connessione così veloce Oddio, infatti prima stavo leggendo I vostri commenti e mi si aprivano Direttamente tutti i video su youtube Per me era una cosa strana Perché non ho mai provato questa sensazione Quindi veramente credetemi Avere la connessione, la DSL Per me era uno degli obiettivi Di scopi della mia vita Ecco perché mi avete visto felicissimi Ecco perché l'altro video Ho scritto la cosa più bella del mondo La cosa più bella che potesse succedermi Realmente è una cosa che mi rende tantissimo tantissimo felice Perché ovviamente il mio lavoro è importantissimo Amo caricare i video Quindi ovviamente questo mi semplificherà tanto la vita Potrò caricare un video al giorno In tutta tranquillità Quindi sono super super felice E tra l'altro vi volevo ringraziare Per tutti i commenti dolcissimi Che ci lasciate sotto a questi video vlogmas La sera ci mettiamo io e Max Leggiamo i commenti Anche lui è stato tanto contento Gli fate tanti complimenti Vedo anche dei fidanzati Che gli danno sostegno Stanno facendo il club dei Max Fan di Max Nel senso che lo difendono Dicono fatti valere Lascialo stare Poverino Quindi è simpatica sta cosa Insomma voi siete per me veramente una seconda famiglia Quindi mi fa troppo troppo piacere Condividere le mie giornate con voi Sono troppo troppo quelli Grazie per tutti i commenti dolcissimi Che ci lasciate Ho rotto questa Una candela Adesso devo pulire subito Solo Max quando torna mi sgrida Mentre Max non c'è mi sono già lavata e vestita E ho anche rotto una candela Che avevo comprato da Ikea Ho pulito tutto perché Se no Max mi sgrida si incazza Dice sempre Tu rompi tutto Però è vero Ha ragione Cioè devo rompere Tipo almeno una cosa al giorno Se non solo io Perché sono troppo maldestra Vado di fretta Voglio fare tante cose Comunque l'albero è nostro Ora la accendo Ma anche di giorno Se accende l'albero Solo di sera Non lo so Comunque adesso preparo la colazione Così quando torna Faccio trovare la colazione pronta Ho fatto i pancake con la ricetta che vi ho fatto il video sullo mio secondo canale Il canale di cucina Quindi i pancake Ci ho messo anche le nuci Che a lui piacciono tanto tanto Ma quando viene Uffi Ho fame Mi sono messa pure qua nel cd Sto mettendo sto disco che avevo comprato Se vi ricordate avevo fatto vedere Quell'altro vlog con mia sorella Shopping Natalizio Che avevo preso sto disco con le canzoni di Natale Adesso le voglio sentire Solo che già ho visto un po' i titoli Non sono proprio canzoni diciamo moderne Però insomma vediamo Ma come fa? Così facciamo tutta la tua spera natalizia Che bello Manca solo lui Oh Oh Sei studiato con più E finita la batteria C'è io non lo so, vabbè, solo io, papirissima. Tanti auguri a te, oggi è il tuo non compreanno. No, lo sai che ho fatto, ho fatto un errore, mi dovevo fare la ricarica, ho sbagliato, l'ho fatto a te invece che a me. Ah, mi ci è arrivato, grazie della ricarica. Ho sbagliato, 20 euro di ricarica, mi devi da 20 euro, ho sbagliato, uffa, come una cogliona, mannaggia, ti ho preparato la colazione, ma tu hai fatto tanti, io ti ho preparato la colazione, amore mio, guarda che bella colazione ci ha avvicinato, vedi che bella vita che sei preparato, ma che significa questa frase, tutte cose che conosci, la colazione ci ha avvicinato, ma la colazione ci ha avvicinato, ma la colazione ci ha avvicinato, ma la colazione ci ha avvicinato, e che vuoi, ti hai fatto tanti, ti sto aspettando a noi, ti ho comprato le nastrini per me, ma come fatti i nastrini con l'olio di parma, ma sei impazzito, ora te li brucio, andiamo, muoviti, vieni, ti fai un bacino, ben tornato, no, è tardi, niente colazione così, allora com'è? è molto buono, ti piace? è una tante, non te ne sideravo, non te ne sideravi proprio, mi stai accontentato, eh? grazie, bel regalo di canale, adesso mangiamo, mi sta aiutando a montare il video, e sono troppo troppo contenta, perché adesso cucino, e poi dopo viene mia sorella qua, perché dobbiamo fare dei video assieme, dobbiamo registrare, io adoro troppo quest'altro, troppo bellissimo, sì, mi amore, mi amore anche questo pezzetto di pane, sì, amore mio bello, dire di pane, fa vedere come sei bello, fa vedere come sei bello, cosa? non ho capito, il video pure per avere un pezzetto di pane, si, vai a vedere come sei bello mentre mangi il pane? eh, mamma mia, sei troppo carino, troppo, come mangi il pane, comunque non lo voglio dire, ma già ti stai abituando alla videocamera, eh? no, sei diventato un bravissimo vlogger, no, vongoline, niente taratuffi, non l'ho trovata, ho detto, niente taratuffi, non l'hai trovata, vabbè, non fa niente, le vongole sono buone e uguali, o no? troppo, troppo buono, l'ho trovata, no, è buonissimo, è la guerra, ragazze, è proprio, è una morte legge, le piace, che vuole mangi addosso, che è? ho comprato, pure questo salmone, che è troppo, troppo buono, infatti, e mia sorella lo compriamo sempre, affumicato e speziato, adesso lo faccio come antipasto, ho comprato, pure la cucchiarella di legno, perché qualcuno, mi aveva richiamato, non si usano il cucchiaio, dentro qua, e quindi ho comprato, la cucchiarella, questa però, è una cucchiarella napoletana, quindi, è migliore, funziona bene, la bella cucchiarella, quella che si dà su musso, a Max, quando fa il cattivo, vero Max? Tu 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 tu, tu tu tu, tu tu tu, tu tu tu, tu 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 tu, tu 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 tu, tu tu tu, tu tu tu, tu tu, la febbre, solo perché c'è la febbre, non te lo do, poverino, vuoi fare un bel sorrisone nella videocamera? E una febbre? E una febbre, non si fa il sorriso? E uno piccolino, e tutti i due fan, belli vongolelle, prezzi e molina, adesso metto pure la ventola della pasta antipastino pronto, ho adagiato le fettine di salmone su un letto di carote a julienne pezzettini di limone e foglioni di insalata, il salmone già era speziato con semi di papavero e semi di sesamo e l'antipasto è servito cosa hai da dire a tua disculpa? mi sono scocciata di vedere sempre le partite, sempre con questa televisione di queste partite uffa, ah, spegni tutto, basta ma che fa zanapolo, forza stuto, mi sono scocciata non butto, mi rifiuto come si fa ragazze, basta basta, bruciamo tutti i palloni basta con queste partite eh, niente più il sabato, il lunedì qualche volta è lunedì no, cioè noi da che stiamo qua stiamo tutto il tempo con la televisione, con le partite qualsiasi partite Napoli, Spagna, New York, Madrid ma basta ragazze, ribelliamoci come fate voi? staccate il condatore, ditemi come fate buona per il dammo buona per il dammo una febbre c'è la febbre, è vero? c'è la bocca un pochi febbre, tiene, tu pare che stai morendo un pochi febbre... brutta febbre che? la brutta febbre c'è la rotta febbre c'è la mia roccata nell'anima 2018 a chi? 118 mmmmmüman llanni pastina ho fatto wow ma ti passa tutta l'orto a una febbre vi scocciate di vedere a max non è vero una volta in tutti i video una volta ogni tanto eh perchè tu sei questo stato speciale non puoi stare in ogni video guarda che bello un pranzetto spaghetta voglia troppo bellissima guarda che bel piattino di voglia e pasta con le vangole e il peperoncino ora prendiamo staccato no non mi freghi ho staccato non c'è non c'è questo no questa è mia chi fa? stava mai a parte stava preparando un pezzo eccoci ci sono venuti a trovare ehi ciao ci siamo venuti a trovare coca e bolle è vero? che c'è piccoli? che c'è? scendete dal divano mammo forza scendete no scendi tu che fai tu qua? ehi che è da bolle com'è con dentro ci siamo venuti a trovare è vero questo divano mi piace troppo ci sta anche la sorella perchè dobbiamo registrare dei video è vero Nancy? dobbiamo fare dei video qua davanti all'alberello che bello quest'albero è stato avvenuto bello alla fine? te l'ho dato io no grazie a te scendete prima si stava mordendo il cuoricino no no brava molly che scende brava dove vai? non lo so neanche io dove devo andare oh ma siamo per sotto al filo numero facciamo il limbo ma non vanno stanno ispezionando cioè noi registriamo il video e loro sul divano non ce la faccio ma perchè dovete stare su questo divano? scendete cattivi quanti video dobbiamo registrare ancora? ancora ancora altri video già ne abbiamo fatto uno adesso registriamo un altro molly il diavolo e l'acqua santa il diavolo e l'acqua santa bello amore mio quanto è bello ecco qua nensiii sono arrivate le pizze wow mangiamo pizza pizza margherita wow che magnificenza buon appetito non sai come fa questo cappuccio ma che è l'olio crudo sulla pizza solo tu le fai queste cose si sfoccava pure mmm no comunque sto arrabbiata perchè mi hanno fatto la pizza sbagliata, volevo prosciutto e funghi vabbè fallo questo sacrificio me la mando lo stesso io avevo chiesto metà prosciutto e funghi e metà marinare fatto margherita e marinare invece ciao mmm com'è? ho 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 chiudi sennò si fa frizzare la tua pizza ciao ciao al prossimo vlog mas con molte mucan ciao 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 Grazie a tutti.